Una parola che vale per tutti, stabilità con una postilla che vale altrettanto per tutti quelli che pensano a possibili rimpasti. Pensiamo alle cose da fare, avanti fino al 2015. Enrico Letta parla chiaro e getta acqua sul fuoco delle polemiche in un momento in cui il governo sembra insidiato dalle scissioni e dalle fratture che stanno investendosi al PDL che scelta civica. Con Monti, che lo ha accusato di essere inginocchiato davanti al PDL, sono sicuro che ci sarà un chiarimento, precisa il Premier. Ma Monti, che oggi ha partecipato all'inaugurazione della Bocconi, ha di nuovo sottolineato come la stabilità non sia sufficiente se non c'era crescita. Mentre tutti i paesi in questo momento sono impegnati nell'approvazione delle rispettive leggi di stabilità, non ci dimentichiamo, proprio nel paese, la stessa cosa vale per gli altri, che deve essere legge di stabilità e di crescita. E sul governo pendono anche lo sciopero generale, proclamato dai sindacati, e la critica tagliente della Confindustria alla legge di stabilità. Letta risponde a tutti, difendendo la spada tratta, sarà il Parlamento ad apportare i miglioramenti. Sulla stessa linea il Vice Premier Alfano, che dice che la manovra non è il Vangelo. Parole che non servono a placare le fibrillazioni esterne, il PDL è un passo dall'ascissione, gli Alfagnani tornano alla carica con la lettera di ieri dei 24 senatori che rispingono i continui attacchi al governo. Ma torna a farsi sentire bondi con il culto della stabilità, l'Italia finirà per sparire, dice. Una scissione che resta nell'aria, come resta sospesa la richiesta dei lealisti, che Alfano si faccia da parte dal Ministero dell'Interno. In bilico anche il Ministro della Difesa, Mauro, che questa sera si presenterà di missionario davanti alla direzione di scelta civica, che dovrà cercare di ricomporre la frattura tra montiani e centristi dopo le dimissioni dell'ex Premier. E un'anticipazione di quello che potrà succedere la fornisce questa mattina ad Omnibus, Linda Lanzillotta. Che Mauro si dimetta al governo nel caso ci fosse una separazione? Non lo so, questo bisogna chiederlo a Mauro. Io penso che la presenza di tutte le componenti della coalizione del governo sia un problema o un interesse del Presidente del Consiglio. Scelta civica ad un bivio dunque. Casini tiene duro, non c'è nessuna spaccatura tra me e Monti. C'è una spaccatura tra Monti e il resto del mondo, definendo quindi inaccettabile la fibrillazione quotidiana attorno al governo Letta.